Alessandro Meloni, Box Crosspeed Capo di Sofra per Pole Series 2020 WOD 2A e 2BE, categoria Master 45. Questo è il carico con cui entro, sono 78 kg per trovare il massimale, 1,5, 2,5, 5,20. Guarda la parte, 20, 5, 2,5 e 1,5, bilanciere da 20 kg, utilizzerò un altro bilanciere con 20 kg, sempre bilanciere da 20 kg, 20 kg e 20 kg di carico. Ok, e questa è la sbarra sulla corretta lo mascolato. Dimmi quando devo far partire il tempo, sempre a di fronte. 3, 2, 1, faccio partire il tailtime. Attiva, attiva, per fare il massimale. Aggiungo 10 kg, più 20 kg, bilanciere da 20 kg, andiamo a 80 kg. attiva, per fare il massimale. Attiva, attiva. Attiva, attiva. È passato da quando siamo partiti un minuto adesso. Mi viene il crampo al braccio. Mi viene il crampo al braccio. Ascol, tieni un secondo e vado a prendermi il caffè. Tanto devo stare cazzo due minuti così. Sì. 1,40 dall'inizio. Ne hai? No, vola. Fatelo fare il riporto. Fatelo fare il riporto. Fatelo fare il riporto. Così, davo, bene giù. Due minuti. Bello deciso, avrò. Vola, 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 vola. Non pensa ad andargli sotto. Pensa a farlo volare. Bravo. Bella. Grande. Cazzo. Bravo. Beh, ma questa è una bella di sotto. Invece, guarda. Vai, mettilo. Aggiungo uno. Un chilo. Grande. E un chilo. Scusa, ci siamo al prossimo. Cazzo. Cos'è mio? Non sono vicino ai 4. Vicino ai 4? Ok. Un minuto. Un minuto da adesso. Un minuto da adesso. Dire te giù. Un minuto da adesso. Bagazza di scarpe. Bagazza di scarpe, cazzo... Gli stacchi a un braccio li fai 3.30 bro 3 minuti e 30 Giù Attivo Subito Eccolo Deciso Un po' di cazzim Forza bro Bella Va bene va bene dai Cazzo proprio La fagassa della forza Cazzo esatto Non ne hai spalle Nonno Oh e anche questa volta ha fatto così Cazzo Buono 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 60 4 minuti e 30 secondi ora Eh bravo toglili un po' di Un po' di roba In tempo 4.56 57 58 59 5 minuti ora Abbiamo 1 2 3 5 5 5 minuti e 40 6 6 7 8 9 9 10 6 minuti e 30 8 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 14 12 15 15 5 6 7 7 7 7 minuti e 15 secondi ora 5 4 3 2 1 Go 1 2 2 Si 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 non anticipare quel culo bro dai un po' più di gamba 3 Dai un po' più di gamba 4 4 1 Forza forza bro Dai Ale 5 8 8 minuti e 7 secondi 6 Dai Ale 7 7 8 Forza bro 9 8 8 10 10 10 10 8 minuti e 55 secondi 8 e 55 9 minuti 1 2 3 4 4 5 6 6 Siamo 7 9 e 38 Recupera Sì 5 4 3 2 1 Go 1 Vai di gamba gamba 2 bravo meglio meglio 2 3 3 3 3 bravo 4 4 5 5 6 6 6 a 10 e 50 7 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 5 5 10 10 11 35 10 11 35 11 45 1 2 3 4 5 6 6 7 7 Buono Recupera 12 20 1 1 1 2 2 3 3 6 7 7 8 8 9 9 9 10 Forza 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 5 Buono così 13 e 12 13 minuti e 12 Sì Bene così 7 Forza 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 3 8 8 8 9 9 Subito 9 10 Buono 10 Buono 14 minuti Via 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 14 minuti Via Via 1 2 3 Bene 2 Così Vai 4 5 Forza Bro Vai Cazzo Tranquillo Respira 3 Via Cazzo Tranquillo Respira 20 secondi 20 secondi Ai 15 Chi va bene Chi va bene No Chi va bene No Chi va bene per chiudere la patta Tranquillo Prendi un po' la rincorsa Chi va bene bro Dai Eh Non so Quattordici Quattordici 58 59 ti 3 2 5 5 7 6 9 10 10 Grazie a tutti.